Ezzer, vai! Ah, per fare un resoconto a chi non ha capito un cazzo, perché effettivamente non abbiamo ancora giocato. Non abbiamo capito un cazzo, ma... È Among Us, in sostanza. Sì, è letteralmente Among Us. Sto giocando come Jack. Con tre frame al secondo. All'inizio vi andrà di merda, non panitate. Ma è 25 fps. Completa le task per le anime. Più anime hai, più puoi fuggire. Bello. Sì. Sì, perché devi andare al negozio a comprarti, tipo, che ne so, la pistola, la macchina fotogrammata... Sì, è il tizio di Mortal Shell, ragazzi. Fuggi... Fuggiterrori. 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 Posso usare il terzo occhio. Prova, prova. È bloccato tutto. Ci mutiamo, no? Proviamo a mutarci, facciamo la prima di poco, dai. Sono gasato, ragazzi! Sono gasato, bellissimo! Ma stai calmo! Aspett... Ci sono altre attività da fare, fatene! Toccami Marco, toccami come non sono mai stato toccato! Ma dove sono queste scimmie? Ehi, guarda, allora, qui a questo vecchio puoi dare delle medicine. Ma lì non è altissimo, ragazzi! Ho segnalato un punto debole, credo. Io ho segnalato un punto debole. È questo cubo di torno. Cos'è? Cos'hai fatto? È il traditore, lui! Non sono io, l'ho toccato. Che rim ha toccato quella a fare lì. Sì, scemo! Sì, scemo! Il gesso! Sì, scemo! Sì, scemo! Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Amici! Oh my god! Sono solo? Ragazzi! Sono nel luogo di mezzo. Ragazzi! C'è qualcuno! L'avete visto? Chi è? È il culo! No, è lì! Non lo sapevo! Amici! Ma non lo sapevo se è morto qualcuno! Chi è che c'è moro? Ma chi è di chi? Era Karim o era Karim? Ma tu sei morto qualcuno! Eh, ma non ho capito se è morto Karim o Karim ha ucciso qualcuno! Tu! Tu! Gatto! O dimmi! Cosa o dimmi? Ma ti rendi conto di ciò che è successo? Ho girato una moneta, moro! Anch'io ho tirato la moneta! Che cazzo vuol dire? Adesso siamo in due! I Marco hanno girato le monete! Eh sì! Ah, bravissimo! Come fai a sapere il codice? Sei il traditore! Eh... No! Scusami! Hai sparato una... Cazzo fai! Uno! Perché? Che? E' un certo! Innocent! Time to cry! Buongiorno! Eh... Che... E perché? Eeeh... Non lo so! Ehi Marco! Sì, sto con mirando qua dentro! Ok, perfetto, c'è... Oh oh! Ma non eravate morti! Ma c'è mano! Perché c'è la pistola? Perché ho visto Mark e qualcun altro morire! E ho comprato la pistola! Ma io sono stato disparato! Ma io sono stato disparato! Scusami, ma perché sono ancora virata? L'ho comprato a mo'. Ed è stato TTT per davvero. Io ero con Marco. Eh sì. Ma scusate, come siete morti? Io non sono morto. Ma io sono stato sparato da Lizar. Noi siamo qua, ho visto Moro sparire e credo... Come si sono stato sparato da Lizar? Allora Lizar vi doveva ammazzare, scusami. Io ho visto da Lizar che mi sparava. Marco, non fidarti di Lizar. Io non l'ho sparato. È stato... Eh, allora è stato Iro da fuori. Ma che è? Ma lo ha comprando... Come? Cato l'aveva visto tutto, sono loro due, 100%. Li ammazzo, gli sparo. Tu dici, secondo me è una buona idea, Marco. Guarda che secondo me è Lino, eh. Non ti avvicinare, ti ammazzo. Guarda che secondo me è Lino. Lino ti sta puntando. No, no, non sono io. Lo posso proteggere, sono il medico. Lino, perché ti puoi la piccola? No, perché sono il medico, ti posso proteggere, ma l'ha usato già su di me. Ma il medico con la pistola di ferro gigante. Beh, o anche questo, se preferisci. E Karim è morto, credo. Ma chi la fotografa? Eh, ragazzo. Marco, devi farlo. Che vuole? Passiamo a fare. Devi farlo. Non lo faccio. Ok, e Antonello? Lo sapevo che erano due, dovevo fidarmi del mio istinto. Perché Lino ha provato l'espulsione di Marco? No, no, non cado io, non sto... No! Regà, ho sbagliato tutto, Lino. Ma perché? Cos'è successo? E adesso? Scusa. E sono... Ah no, Lino è gatto. Non ci può passare lui. E invece? Ah, merdone, merdone, vieni qua. Più o meno, eh. Cosa fa? Sei liberato. Lino? Fuga degli innocenti. E' stato unito. Allora, c'è stato unito. Cato che ha sbagliato, ha esiliato me, che ero sulleato. Anche io ho esiliato Marco, per sbaglio. Sì. Eh. Sì. Io non ho capito un caso. A parte che tu, Marco, hai visto che ti ha sparato gli Ezzar. Eh, ma ho detto magari si è sbagliato. Eravamo tutti a fare cose a caso. Però, eh, sì. Bisogna un attimo capire bene effettivamente cosa cazzo bisogna fare. Quando arrivano i mostri, ci tippa in posti completamente random. Non ho capito la segre. Sì, perché finito il tempo, ritorni nel mondo normale. Io ho corso ovunque non lo vedevo. Mentre nel mondo normale, se uno ti uccide, poi bisogna votare per esigliarti o no. Sì, infatti noi abbiamo votato te e sei sparito. Sono in fecco, ragazzi. Per far evocare il luogo di mezzo. Ah, ok. Non arriva il luogo di mezzo, ma è proprio nel tuo terrazzo. Forse qualcuno di voi è il dottore. E il dottore può... Si ammalò. Dare la protezione. Eh, puoi scegliere a qualcuno se dare la protezione o darla a te. Mi dai la protezione a me? Sì. No. Adesso che ho seguito il tutorial, effettivamente so cosa devo fare. Però non ho capito cosa dovevo fare come cattivo. Ragazzi, c'è qualcuno che mi può dare una mano sotto la doccia? Ti devi lavare? Moro, sorridi. Scusa, Marco, mi viene da una mano sotto la doccia. Grande. Oh, qui qualcuno ha fottuto la vasca, eh? Allora, o gli Enzar o quello di prima. Era Moro. Moro, anche la pistola, eh? Attenzione. Eh, vabbè, la pistola la puoi prendere al supermercato, lì. Sì, non mi ha il punto debole attivo. Ma che cazzo è il punto debole, poi? Cos'è questa cosa? Vabbè, dammi una mano con la doccia qua. Cosa bisogna fare? Qua, premi. Di qua io. Dai. Ecco qua, posto. Anche là. Aspetta. Anche là. Anche là. Anche là. Ma chi è che parla questo infamone? Che paura, gagato. Turbulenza trasformare. Vado. Ah, scemo. Tutti strozzo. Mazzo, è scomparso. Ambecille. Ridi a sto cazzo. Effettivamente erano tutti insieme. Adesso è un problema per me. Scongiurarmi. Dovrò nascondermi, ragazzi. Marco, che facciamo? Aspettiamo la notte della luna piena, lì. Eh, ma bisogna toccare le le tocche. Eh, prima hanno rotto di tutto, rotto. Scogliari! Nino, ciao! State attenti, penso sia Mono. Come? Sono stato con lui pieno adesso, fino a lui, con lui. Come? Allora, scusami, eravamo qua? 3, no. No, Marco, un imbecille, ero no. 5, no. 6, no. Ah, non fa! Vieni, cazzo, vieni, cazzo, vieni, no! Non passo, non passo. Sto scemo. Sparare non serve a niente. Sparare serve solo per esiliare. No. No, Marco, si è sgonfiato Marco. Ah, scemo! Coglione di merda, vieni qua! Sono sulla strada! Eh! Votiamolo! Votiamolo! Bellissimo! Ma mi sono speso in aria! Ma non mi sono bene a ucciderti, Marco! Lino, guarda che se non mi sparavi continuavo a fingere di non essere fino alla fine. Che pezzo di culo! Si sa di ricolta! Ho detto, non gli faccio niente fino alla fine, tu mi hai sparato, ho dovuto ucciderti, poi, per forza. Ma mi è segura! Sì, forse due infetti è tanto, quindi effettivamente l'infetto, l'unica cosa che deve fare è toccare gli altari per poi... Esatto, se tocchi l'altare, praticamente ti... Vai nell'altro mondo. Esatto, no, c'è una percentuale. Più ne tocchi, più poi vai nell'altro mondo. Più ne tocchi, più va avanti, velocemente, esattamente. Quindi dobbiamo toccare tutto. Ma invece da buoni, cioè, dobbiamo andare avanti all'infinito, sembra. Eh, da buoni devi scammare. No, no, devi fare gli obiettivi! Eh, no, sì, devi fare le tasche. Il fatto è che sono tantissime. Cioè, non c'è tempo di... Aspetta, custom setting, aspetta, aspetta. Task required, roll. Infect count... Uno. L'infetto, per uccidere, deve uccidere nell'altro mondo. Perché deve esaurire la sanità mentale, deve esaurire. Sì. E dopo, facendo le task, ti riaumenta. E l'ho esiliato. Perché tu... Bravo. Potevano fare due task, uno per esiliare e uno per tirare su. È vero. Invece solo si esilia. Eh sì, esatto. È stato incredibile, perché io ho sparato Marco per sbaglio. Sono il guardiano. Ero convinto fossi tu il cattivo. Perché ho visto che lo sparavi. E invece tu mi stavi salvando, è assurdo. Eh sì, solo che ti ho toccato e ti ho esiliato. Eh sì. Ma il terzo occhio a me che cazzo serve? Per vedere le task. Occhio eh, ma... Usa audio diffusore, sì. Aspetta, io sintonizzo la radio. Grande. Sa, sa, prova! Non ci ho provato. Scusate. Che è? C'è uno nudo! Gli ezzar! Ma questo... Bucio di muro! Secondo me è lui. Che è? No! Era il giro Taniguchi! L'hai smolleggiato! Ma ho preso un potere, mi so. No, avrei fatto una task. Gli ezzar? Ostia. Ehm... Aiuto! Vabbè... A parte che il pulsante era qui di fianco. Allungo la mano, già arrivo. Non lo siamo saluti, ah... Porca troia. Qui non mi... Qui non mi si vede, secondo me. Forse è meglio di là. E' morto Marco. E' morto Marco. Porca paletta qui. No. Turbolenza? Ah, c'ha teleportati... Ando a fare le mie task-in e io... Me ne sbatto, ragazzi. Sì. Chi c'è qui? Chi c'è qua? Io! Cretino, allora vedi che non sono io, deficiente. Perché sei diventato invisibile? Perché è così che funziona sto merda di sottosopra. Ah, sì? Sono ricorso da un merdone! No! Scherzo! Aspetta che gli faccio una foto! Anch'io! Ma io mi nascondo, fanculo! No, no! No, col cazzo! Stermina tutti gli scarafaggi e le vicinanze. Ops! Eh, gli ho stato fatto... Ops! Fatto! Grande! Abbina le coppie! Il memory! Vai! Grande! Jezzar! Maledetti! Sono loro due! Karim e Lino! Aspetta! E Lino! Votate Lino! Ma gay! Gatto! Anfame! Sparano! A me! Spara a me! L'infame! Il gatto è lì! Pezzettino di merda! Ma era ovvio che era Lino! Potevi ucciderlo, eh? Ma no! Lo potevate votare! Perché non l'avete votato? Eccoci! Era lui! Eh, ma devo andare lì per votarlo! E' veramente bruttissimo! No! Perché? Quando muore uno! È terrificante! Ah, di fianco si può votare? Certo! Dovevi votarlo lì! Oh no! Non ho visto! Sono Sandro o no? Sono un guardiano solo! Come si fa? Ma guarda dove il bot è un bot! Perché mi fiii? Cosa fa? Ah, le anime! Ma Marco! Ma dove sei uscendo? Che cazzo urlate! Siete impazziti! Qualcuno ha toccato qualcosa lì dietro? OPPELALAI! Qui non mi vede! Sono abbastanza coperto! Ma qui tra l'altro ha rotto il fatto! L'ha preso! L'ha preso! Chi ha preso, cari Muesli? Dove siete? Ma quiiii! Io sono da Giro Taniguchi! C'è da fargli la terapia! Marco! Ma può essere utile! C'è una cosa che hai fatto per loro! Il Peddler cerca di risparmiare! Aiuto amici! Io... Ragazzi, Elino! Elino! L'ho visto! Orca troia! Tu non sei così! Ah, ecco! Dove sei Marco? Marco! Eh, Elino! Elino! Eh beh sì, l'ho visto! E' vero! Mi ero scolato di dirtelo! Ma testa di cazzo! Ma scusa! A parte dove sei stato fino adesso! Eh, mi sono perso! Comunque... Sono riuscito a fermarlo! Mi ha provato a aggredire ma sono solo tiso! Ma è morto gatto! Però il Nether non mi ha cagato di striscio poco fa eh! Ma è Elino tanto! L'ho visto! Ah già che è Elino! E' vero che è uno solo adesso! Correte lì in fondo! C'è Elino! Non ho la pistola io! Cosa non hai la pistola? Eh, ma non sono dimenticata! Prendilo! Ma c'è il generatore rotto però! Dobbiamo riparare il generatore rotto! Prendo la pistola! La pistola sta lavorando! Prendilo ora! Fa zigo zago questo Fortnite player di merda! Scappa! Dovevi votare! Non ci provare! Non puoi tanto! Scemo! Oh no! Cazzo! Cazzo! Scusa! Cazzo! Aaaaaaah! Gizzar, hai il sistema? Ehh! Non lo so! Bambini! Cazzo! Che cazzo! 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 Eh bisogna schiacciare gli scarafaggi! Cazzo! Bisogna prendere cinque scarafaggi! A posto! Ci mancava pochissimo! Ma ne mancano questa! Ah le ducce! Gizzar! No Aspetta, tre, no, stai fermo Tre, due, uno No Tre, due, uno Chiave, dobbiamo uscire, Liezar Dov'è l'uscita? E' qua, e' qua No, quello è un quadro Posto, dove si esce? Osteria, Liezar Perché non spar... Liezar, Liezar, la chiave è qui A noi di là Arrivo Ero dietro di voi A dopo, a dopo Ma adesso, ragazzi Wacky, Wacky Grandissimi broderi Ragazzi, cari putt, sta costruendo un puzzle Ci sono dei piedi, delle donne nove Che può, è può Cazzato come un'aria Sve qui No, non mi guardare, non mi guardare Che cazzo sa? Non mi guardare Cosa ne sa che sono io Ma, gatto, ma mi sente lei? Vedi che io sono dietro il mostro Gli sto toccando dietro Chi è? Qualcuno sa il nome? E' Moro? No Ok Devo subito attivare tutto Devo scappare via come un'anguilla Ragazzi L'hanno sgamato Devo smanacciare tutto quanto Devo smanacciare Devo toccare tutto il toccabile Stiamo attenti ai luoghi del potere Che paura Fora di ballo E' stato quel momento di merda In cui Lino mi ha guardato Easy Sapete come ho sgamato Moro? Eh, perché ti parlavo Da vostro Ma perché da vostro Tu mi senti? Io sono un coglione Ma tu mi senti? C'eravamo io e Lino nella cella Abbiamo visto gatto passare tipo Scooby-Doo Con Moro E Moro E Moro E' stato un aggiornamento Questo gioco E' stato Ma è carino Oh io mi sono divertito Sì E' stato molto bello Mettessero una mappa in più Due mappe in più Le meccaniche in più Delle 3 Mega Un sacco di cose in più Sì, magari un giorno Non avrà un altro Ma un altro gioco Un gioco in più Sì, un gioco in più Sì, va bene E' stato bello ragazzi Siamo divertiti dai Buon saluto Ciao 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 Grazie a tutti.